Ciao 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 da Svideo, ciao da Svideo! Allora, due cose innanzitutto, tantissimi auguri ad Alceo FX che poi c'entra con l'argomento importante di oggi. Comunque, ancora buon compleanno Alceo, conoscerete tutti il suo canale e saluto anche Cosa. Comunque, vi devo parlare del raduno, il raduno che si terrà il 14 luglio a Milano, Milano, in Piazza Duomo, quindi il 14 luglio a Milano in Piazza Duomo, ci troviamo alle 10 e mezza. 10 e mezza in questo raduno, che è un raduno youtubers però, sono invitati oltre agli youtubers, gli iscritti dei canali, della gente che ci sarà, ma poi ci sarà tanta simpatica e bella e brava gente. Per esempio ci sarà il portale di Chris, quindi lui che fa sempre video straordinari sul suo canale. E poi chi ci sarà? Ci sarà Price the Irish, bravissimo anche lui, poi quando fa dei video è quasi teatrale, è un attore vero, Price the Irish, benissimo! E poi chi ci sarà? Mitch, Mitch, direttamente dal canale Waszone, ci sarà Mitch, purtroppo non ci sarà Lucio che deve lavorare e che saluta tanto. Checco è molto distante, quindi vabbè, comunque saluto anche Checco. Comunque ci saranno Luca Drankenotters! Allora, sapete che magari ci dirà qualcosa della seconda serie in uscita della principessa in un altro castello. La prima serie è stata favolosa e la seconda lo sarà ancora di più, anche perché, anche perché... In un episodio c'è qualcosa che c'entro io, ma no, non ve lo voglio anticipare, non ve lo voglio... Non lo voglio spoilerare, ma presto, lo saprete, magari a Milano lo anticiperà lui questa cosa dei Drankenotters, che dovete tutti seguire la sua serie, la sua web serie, la principessa in un altro castello, se non l'avete visto la prima volta, guardatevi la seconda, no, o meglio, recuperate la prima e poi guardatevi la seconda, perché altrimenti non ci capite un benemato cavolo! E allora... Quindi... Ma sto cubo è difficile... Cosa che ve lo dirà? Allora... Cosa si farà al raduno YouTubers del 14 di luglio? Ti piacerebbe saperlo, eh? Ti piacerebbe! Non vi anticipo niente, non vi anticipo niente, gente! Quello che ci sarà lo scoprirete voi, se verrete, se verrete... Ra... 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 Raduno! Del 14 di luglio! Ah, poi al raduno ci sarà anche il bravissimo documentarista Zaccheroni 3! Zaccheroni! 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 3! Allora, sì che lui che riprende tutti gli eventi di qui, di là, di su, di giù, le città, che magari filma Genova qua, filma Urbino di là, ci fa vedere la festa dell'Anduia, dei prodotti tipici, sempre questi videoclip dove ci perde molto tempo per organizzare questi video molto, molto, molto belli perché sono tante clip tutti insieme veramente sempre girate ottimamente, poi con il suo umorismo e... Bravo, bravo Zac! Beh, Alceo, a cui ho fatto gli auguri all'inizio, penso proprio che ci sarà, visto che, insomma, di lì del posto e quindi spero che possa in quella data esserci, ma penso proprio di sì perché lui è sempre un grande che partecipa spesso molto molto volentieri a questi raduni, e poi... Ragazzi, io non sto qui a fare un elenco perché c'è tanta gente in forza e quindi mi saprete dire voi che... magari me lo scrivete qua sotto, io vengo, io vengo, venite! Sì, magari portatevi! Secondo me sarà una giornata molto calda, magari una bottiglietta d'acqua, ecco, cioè magari si mangia là però ci sono barchini, cose del genere eccetera, però tante volte dopo andiamo al parco a mangiucchiare, quindi dopo quella è una scelta vostra, io mi porterò un panino a sacco e quindi tanta gente se si vuole portare il panino a sacco se no dopo c'è la roba lì nei vari baracchini eccetera, però io una bottiglietta d'acqua e un panino magari me lo porto da casa, dopo voi fate come decidete voi, come preferite voi altri, come volete voi! E quindi ripeto, a youtubers che vogliono partecipare come amici oppure anche qualche iscritto dei canali della gente che ci sarà, insomma. Ok, magari farò qualche aggiornamento più avanti, vedremo se volete un aggiornamento della gente che ci verrà, come youtubers. Forse c'è Jacky's Player, sta decidendo, e poi c'è tanta gente che deve vedere un po' come messa, come impegni lavorativi e tanto altro, ma però siamo un bel gruppetto, e kiciki, kiciki, non mi ricordo più kiciki, non me lo sono scritto! Sto pensando se devo dire altro... ALTRO! Ciao a tutti!